Basta coi sensi di colpa! Il cioccolato non solo fa bene, ma se mangiato con regolarità, fa anche dimagrire. L'ultima ricerca dell'Università di San Diego, California, redime il re dei peccati di gola. Il gruppo di ricercatori, infatti, ha dimostrato che chi consuma in modo sistematico prodotti a base di cacao tende ad avere un indice di massa corporea più basso rispetto alla media. Il risultato è che mangiare cioccolato almeno due volte a settimana potrebbe ridurre il deposito di grassi producendo un assottigliamento del girovita. Il meccanismo che innesta il fenomeno resta, per ora, un mistero. Le proprietà antiossidanti del cioccolato potrebbero essere le principali responsabili degli effetti positivi sul metabolismo. La chiave di volta sta, come per qualunque cosa, nel non eccedere con la quantità. E, a proposito di studi e statistiche, un antico detto recitava 9 persone su 10 amano il cioccolato, la decima mente. A presto! A presto! A presto!